In questo video parlo dei video sulle autosportive Anche io ho fatto dei servizi sulle autosportive ma non ho mai scambiato la strada per una pista come invece vedo fare spesso su alcuni canali social davvero molto seguiti da tantissime persone e soprattutto dagli appassionati del mondo dei motori Nei video pubblicati su internet da questi canali online ho trovato diverse infrazioni Guardiamole insieme Contromano In queste riprese il guidatore effettua una serie di curve contromano Il burn out Di solito si fa nelle piste ma qui è dentro un parcheggio Prove di accelerazione Su strade aperte al traffico Addirittura in questo video l'autore ha oscurato la velocità del tachimetro Ripeto, non c'è niente di sicuro a svolgere questo tipo di prove sulle strade aperte al traffico Le riprese su strade aperte al traffico dovrebbero essere realizzate in collaborazione con le pattuglie di polizia stradale per regolare il traffico durante le prove così come avviene durante un programma realizzato per la RAI Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti